Ora voglio dirti come funzionano le revisioni in Bibisco. Dopo aver scritto potresti voler fare delle modifiche o voler riscrivere completamente una parte del testo. La parte in questione è sempre una scena, in quanto considerato l'elemento minimo della stesura. Andando all'interno di una scena, in basso a sinistra, puoi notare un selettore con revisione 1. Questo indica che ti trovi nella stesura originale, la prima. Voglio modificare questa scena attraverso delle indicazioni perché non mi convince o semplicemente sto rileggendo il testo e voglio modificarlo. Ma tutto questo mantenendo questa prima stesura originale. Prendendo su revisione 1 posso scegliere Crea nuova revisione. Questo mi permetterà di avere una copia della scena all'interno di questa sezione. Una nuova versione, diciamo. Bibisco mi chiederà se voglio una nuova revisione a partire dalla corrente, cioè se intendo fare una copia di quanto ho già scritto. Gli dico sì e faccio le modifiche che mi servono. Salvo e vado indietro. Ora qui in basso potrò scegliere qual è la versione definitiva del mio romanzo. Sì, perché oltre a poter visionare le diverse revisioni, quella che imposterò come definitiva sarà quella che lascerò qui all'uscita dalla scena. Cosa significa questo? Che nell'esportazione, nella stampa e anche in tutto il conteggio delle statistiche, Bibisco prenderà per buona la revisione che avrò resa attiva. Quindi anche per il conteggio parole e per la parte di analisi. Te lo mostro con un esempio semplice. Questo progetto ho solamente tre capitoli e in ognuno ci sono cinque parole. Questo viene mostrato nella sezione progetto. Ora entro in un capitolo, entro nella scena e creo una nuova revisione da cui tolgo quattro parole. Andando ora a osservare le informazioni riportate nella sezione progetto, è possibile notare come siano cambiate.